Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Krix e oggi ragazzi sono qui tornato incredibilmente signori miei su GTA 5 online E sono qui oggi ragazzi finalmente tornato con un nuovissimo glitch bomba In cui vi mostrerò ragazzi diciamo un easy method del glitch che vi ho portato praticamente a inizio settembre Ossia da quando ho ricominciato a fare video dopo tutta l'estate Che appunto riguarda il metodo per come poter andare online con la supercorsa Ossia appunto attivando il trucco della modalità storia e poi facendo un mini bug per portare appunto poi la supercorsa online Vi avevo già portato appunto video a riguardo però oggi ragazzi sono qui ritornato In cui vi mostrerò praticamente un easy e barra fast method Comunque easy method fast method come comunque volete chiamarlo Per appunto poter andare online con la supercorsa E una cosa molto efficace di questo glitch ragazzi è che praticamente funziona circa al 99% delle volte Che significa? Significa praticamente che ogni volta che andate a fare il glitch al primo tentativo Tra virgolette appunto il primo tentativo sarà sempre quello buono Perché appunto con questo glitch non ci sono diciamo Non c'è modo di poter filearlo Ossia appunto di poterlo mancare E niente ragazzi prima di iniziare vi invito semplicemente a lasciare il vostro mitico pollicione in subomba Che mi aiuta veramente tantissimo e mi raccomando ragazzi cerchiamo di arrivare a 100 like anche per questo fantastico glitch Perché ragazzi se arriveremo a 100 like io ragazzi vi porterò un metodo per poter fare RP come anche soldi infiniti In veramente ragazzi pochissimo tempo in quanto stanno uscendo praticamente moltissimi glitch sia a riguardo dei soldi che sia a riguardo degli RP Quindi ragazzi se volete vedere questi tipi di contenuti giado subito sotto a spolliciare E mi raccomando ragazzi ancora prima di iniziare vi invito ad entrare nel mio canale Telegram di cui troverete il link in descrizione Perché come dico sempre e ripeto in ogni mio video il canale Telegram è il social principale che vado a utilizzare Quando c'è una qualsiasi tipo di news che sia importante che sia stupida appunto la vado a comunicare nel canale Quindi mi raccomando ragazzi se avete l'applicazione di Telegram entrate nel mio canale Troverete il link in descrizione come anche nel primo commento messo in primo piano Detto questo ragazzi iniziamo subito con il video La prima cosa da fare è andare in GTA 5 nella modalità storia Quindi una volta fatto ciò dovrete semplicemente ragazzi selezionare il personaggio da voi desiderato E a questo punto quindi iniziare con il glitch Io ando a utilizzare Franklin perché comunque è il personaggio che più uso quando sono in modalità storia Però vabbè dettagli Quindi una volta che avrete selezionato ragazzi il vostro personaggio Come prima cosa dovete semplicemente attivare il trucco di tutte le armi Di cui troverete ovviamente il codice in descrizione Come appunto gli altri codici che andrò a utilizzare Che quindi serviranno per il glitch nella descrizione E dovrete appunto attivare il trucco tutte le armi Soltanto e sottolineo soltanto se non avete un RPG a portata di mano Nel senso che se avete praticamente iniziato la storia e non ci avete mai giocato Allora dovete per forza attivare il trucco per poter ottenere l'RPG Mentre se invece che ne so siete a metà storia o comunque sia l'avete finita Allora non vi servirà appunto questo trucco Quindi mi raccomando ragazzi Attivate il trucco tutte le armi soltanto e ripeto soltanto se non avete l'RPG E dunque una volta fatto ciò dovrete attivare il trucco della supercorsa Quindi ripeto dovrete attivare il trucco della supercorsa e di tutte le armi E il trucco di tutte le armi dovrete attivarlo soltanto se non avete l'RPG Quindi se avete il lanciarazzi quindi l'RPG Dovete soltanto attivare il trucco della corsa veloce Di cui troverete appunto il codice in descrizione Dunque una volta fatto ciò ragazzi che quindi avrete tutto pronto Vi basterà semplicemente come primo passaggio Semplicemente ragazzi dovrete come dire come spiegare Ecco dunque Allora una volta che voi avrete praticamente il vostro trucco Dovrete semplicemente quindi premere L1 per far comparire la ruota delle armi Quindi dovrete selezionare il vostro RPG E una volta ragazzi che avrete selezionato l'RPG Praticamente il tasto R2 o RT comunque sia se siete su Xbox One Dovrete praticamente da ragazzi premerlo a metà In modo che appunto quando lo andrete a premere a metà Praticamente come stare vedendo dal video Il personaggio farà l'animazione come se volesse sparare Però se noi appunto non premiamo il grilletto tutto quanto a fondo Il personaggio appunto non sparerà Quindi semplicemente ragazzi dovremo premere il tasto R2 Praticamente non tutto quanto ma a metà In modo appunto da poter diciamo far vedere al personaggio L'animazione di come se stesse sparando Però appunto non sparerà finché voi non premerete praticamente il grilletto a fondo Quindi semplicemente ragazzi dovete premere il tasto R2 Quindi a metà E allo stesso tempo ragazzi dovete tenere premuto il tasto Option Quindi semplicemente ragazzi quando voi avete selezionato il vostro RPG Tenete premuto il tasto Options Schiacciate il tasto R2 a metà E una volta fatto ciò ragazzi vi basterà semplicemente quindi fare il glitch E per farlo è veramente molto semplice Dunque dovremo sparare praticamente non molto distante da noi Come state vedendo appunto dal video E dovremo appunto sparare questo colpo di RPG Praticamente sotto i nostri piedi Quindi tenendo premuto sempre il tasto Options Spariamo R2 con l'RPG davanti a noi praticamente E quando ragazzi praticamente vedrete che l'RPG Ossia il colpo di RPG Avrà raggiunto il suolo e che quindi ci sarà l'esplosione Dovrete essere molto rapidi a rilasciare il tasto Options E se tutto è andato correttamente All'interno del menu di pausa Premendo il tasto Triangolo Schiacciate sul nascondi menu E potrete vedere se appunto l'esplosione dell'RPG È a terra o meno In ogni caso come sarebbe andato dal video Dovrete fare la stessa cosa che ho fatto io Quindi sparate Non molto distante Quindi appunto sotto i vostri piedi E appena sparate Aspettate che il colpo raggiunga la terra E una volta fatto ciò che ci sarà l'esplosione Rilasciate il tasto Options Per poter mettere pausa Se avete fatto tutto correttamente Praticamente quando sarete nel menu di pausa E andrete a premere il tasto Triangolo Noterete che il personaggio Avrà davanti a sé l'esplosione dell'RPG E appunto Nella maggior parte dei casi Vuol dire che il glitch ha funzionato Quindi in ogni caso Una volta che avrete Diciamo fatto il glitch correttamente Vi basterà quindi andare nel menu di pausa Andare su Gioca a GTA Online E dovrete ragazzi andare in una sessione solo ad invito Dunque una volta che avrà caricato la sessione Vi basterà appunto controllare Se avete la corsa veloce o meno Se comunque sia il glitch non avrà funzionato Vi basterà di tornare nella storia E quindi di provare Nel frattempo ragazzi che il gameplay scorre Voglio parlarvi di alcune cosette Riguardo chiaramente il glitch Allora Semplicemente ragazzi Mentre voi state facendo il glitch Possono capitare due tipi di cose Ossia Che quando andrete a sparare a terra E dunque ci sarà l'esplosione Dovrete andare online E dopo che avrete accettato la schermata Per poter andare online Praticamente se il vostro personaggio salterà in aria Dopo appunto l'esplosione E poi vedete il vostro personaggio Che salterà in aria E dopo un attimo Che andrete in GTA Online Circa la maggior parte delle volte Il glitch dovrebbe funzionare Mentre se appunto Fate il glitch E andate a premere il tasto pausa E quando avrete accettato L'avviso per andare Per poter andare online Vedrete che il vostro personaggio O comunque sia Il gioco in generale Si buggerà E baggare nel senso Che praticamente Voi andrete a sparare E quando andrete ad accettare L'invito per andare online Praticamente il personaggio Resterà in piedi Con l'esplosione In ogni caso ragazzi Se avete l'auto di gioco Se vi capita Che quando avrete Sarete andati online Il personaggio rimane All'in piedi Nonostante vi siate sparato Sotto i piedi Dovrete sentire Praticamente Se il gioco vi dia Diciamo L'audio Di quando esce massacrato Quindi appunto Quella cosa Cioè avete capito no Quando morite Ecco la stessa cosa Dunque se Semplicemente Il vostro personaggio Rimane all'in piedi Però sentite che In sottofondo C'è la cosa Del massacrato Quindi appunto L'audio di quando Morite nella storia Allora anche qui Il glitch Andrà a funzionare In ogni caso In entrambi i casi Dovrebbe funzionare Ugualmente Con questo metodo Perché appunto Non c'è il rischio Come anche Non c'è la possibilità Di essere patchato Quindi appunto In entrambi i casi Potrà andare a funzionare Semplicemente ragazzi Può capitare anche Che voi andate a fare Tutto correttamente Però il glitch Non funzionerà E questo Non dipende da voi Ma dipende appunto Da un po' al gioco Come gli gira Se gli gira bene Vi fa uscire il glitch Subito al primo tentativo Altrimenti Vi dovete arrangiare E appunto Dovrete semplicemente Di provare In ogni caso Può anche capitare Che appunto Quando stanno andando A fare il glitch Praticamente Se l'esplosione Dell'RPG Sarà praticamente Bassissima Allora no Non andrà bene E quindi dovrete rifarla Perché praticamente Diciamo che il raggio Dell'esplosione Dell'RPG Dovrà essere Abbastanza ampio Comunque sia Potete vedere dal gameplay Appunto Come dovrà essere Il raggio di esplosione Quindi semplicemente Ragazzi Premete R2 E subito dopo Appena l'RPG Ha toccato Appunto la terra E ci sarà l'esplosione Dovrete praticamente Beccare il timing Tra virgolette giusto Dove appunto C'è l'esplosione In un raggio ampio E c'è anche il vostro personaggio Appunto davanti All'esplosione E semplicemente Una volta fatto ciò Per capire se il glitch Avrà funzionato Vi basterà quindi Andare online E sperare che appunto Il vostro personaggio Salti in aria Dopo che avrete accettato La schermata di conferma Per poter andare online In ogni caso ragazzi Se non vi esce subito Il primo tentativo Non venite a dire Che è patchato Ma vi basterà semplicemente Ritentare più e più volte Fin quanto appunto Non riuscirete a fare Completamente Il glitch Una cosa bella Di questo glitch ragazzi È che praticamente Quando noi L'avremo Completato Quindi l'avremo fatto E saremo online Con la supercorsa Potremo andare anche In sessioni differenti Come per esempio Sessione per la crew O soltanto ad amici Senza appunto Dover tornare nella storia E quindi Eseguire nuovamente Il glitch Per farlo È veramente molto semplice Semplicemente ragazzi Quando noi saremo Online Con la supercorsa Per cambiare sessione Dovremo andare nel menu di pausa Andare su online Ed andare ragazzi Nel creatore Quindi dal creatore Ragazzi Semplicemente dovremo Utilizzare il creatore Per poterci muovere Appunto Nelle altre sessioni Senza appunto Dover tornare nella storia E dover ripetere Il glitch Quindi semplicemente Se per esempio Siamo spawnati In sessione solo ad inviti Grazie al glitch Ma vogliamo andare In una sessione per amici Ci basterà quindi Entrare nel creatore E dal creatore Premere start Andare su online Gioca gt online Sessione per amici Chiusa E così via Quindi appunto Se dalla sessione solo amici Vorremmo andare online Che ne so In una sessione pubblica Ci basterà quindi Nuovamente andare nel creatore Andare nuovamente Su online E a quel punto Andare e trovare Una sessione pubblica Di gt online E mi raccomando ragazzi Ricordatevi sempre Di utilizzare il creatore Se dovete muovervi Da una sessione all'altra Perché se tornate nella storia Dovrete nuovamente Rifare il glitch E se appunto Siete riusciti A fare il glitch Dopo tantissimi tentativi E giustamente Non avete sbattiti Appunto Volendo rifare Semplicemente appunto Il mio consiglio Come anche appunto Consiglio obbligatorio È quello di utilizzare Il creatore Appunto Per andare nelle altre sessioni Senza appunto Dover ripetere il glitch Ogni volta Che dovremo appunto Cambiare sessione Tornando nella storia Semplicemente invece di tornare Nella storia Utilizzeremo appunto Il creatore Come fonte appunto Di movimento Per poterci muovere Nelle differenti sessioni Che possiamo trovare In gta online E detto questo ragazzi Nulla Io direi che per questo video Può essere tutto Io ragazzi Spero Abbiate apprezzato Vi invito a lasciare un like Mi raccomando ragazzi Cerchiamo di arrivare A 100 like Anche per questo Fantastico glitch Perché ragazzi Come ho detto Inizio video Se arriveremo a 100 like Domani E sottolineo Domani Arriverà il video Su come fare RP infiniti Grazie a una playlist A FK Che vi permetterà Di fare All'incirca 50 livelli In circa Due giorni Quindi Veramente ragazzi Tantissima roba Ed andremo poi Ad approfondire In quel video Appunto Dedicato Che arriverà Domani Se ovviamente Questo video Arriva Al 100 like Detto questo Ragazzi Nulla Io vi invito a seguirmi Su telegram Instagram Facebook Di cui troverete Il link In descrizione Mi raccomando ragazzi Al canale telegram Link nella descrizione Molto molto Importante E detto questo Nulla Codacrix E' tutto ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio Ovviamente Ci becchiamo Al prossimo video Bella Wai You Ciao I ain't here For the money I ain't here For the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it off For you Come along You see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on you Came from California Trying to make it Life It's cool That never taught you Dreams of my own I've been working from home To own a jet plane I'm a do it off I'm a do it off I'm a do it off